Salve a tutti, questa è Radio DJ, state ascoltando Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi, assieme a Fabio B, una delle tante drammatiche, strane e misteriose storie del mondo della musica. La storia che raccontiamo questa volta è la storia di un vero mistero, forse il mistero più oscuro, più difficilmente risolvibile, più misterioso insomma, che si possa immaginare. Perché non è soltanto il mistero di un delitto, di un omicidio feroce e brutale, con la violenza di un mostro. Questo è il mistero di un cuore, è il mistero di un cuore umano. Questo è il mistero del cuore malvagio di Bertrand Cantat, il cantante dei Noir Desir. Un poeta può essere un assassino, ma non un assassino e basta, se ci può essere un basta dopo la parola assassino, che già sarebbe sufficiente. Un brutale assassino, un feroce assassino, uno che picchia e picchia e picchia fino ad ammazzare. No, o almeno così verrebbe naturale rispondere. Certo, Verlenti era un colpo di pistola a Rimbaud e tutte e due sono tra i maggiori poeti decadenti francesi, ma a parte che lo ha quasi mancato, si è trattato di uno scatto d'ira molto particolare. Anche Nerone scriveva poesie e ha incendiato una città, ma le sue poesie erano parecchio brutte, per cui in teoria non ci sono esempi in questo senso. E allora un musicista? Un bluesman? Un rocker? Un punk o un rapper? Sì, lì gli esempi ci sono e ne abbiamo raccontati tanti. Ecco, Bertrand Lucien Bruno Cantat, i cantati dei Noir Desir e tutte e tre le cose. Poeta, musicista rock e assassino. Di più, poeta struggente, musicista impegnato e assassino brutale. Uno che un giorno ammazza di botte la sua compagna. Come è possibile? Nei romanzi polizieschi di Augusto De Angelis, che scriveva negli anni 30, c'è un commissario, il commissario De Vincenzi, un tipo strano, che ama ascoltare musica trasgressiva, perverse e negroide, come era definito il jazz, porbito negli anni del fascismo. Ad ogni omicidio, il commissario De Vincenzi si pone la stessa domanda. Sì, scoprire chi è stato è importante, ma in fondo importa poco. Quello che conta è il vero mistero, il mistero dell'animo umano. Cosa si nasconde lì dentro? Perché dal punto di vista del giallo, del capire chi è stato, nel caso dell'omicidio di Marie Trentignan, non c'è proprio niente da scoprire. Inizia tutto il 27 luglio 2003, in un albergo di Vilnius, la capitale della Lituania. Domina Plaza, terzo piano, stanza 35. Marie è a letto, coperta fino alla testa, immobile, spuntano solo i capelli. Suo fratello Vincent è appena arrivato e sta di là, nell'altra stanza della suite, con Bertrand, il fidanzato di Marie. Sono le 4 del mattino e Bertrand ha chiamato Vincent che è arrivato subito. Bertrand e Marie avevano litigato, un brutto litigio cattivo, si sono messi le mani addosso, ma adesso Marie è di là, a letto, che dorme. Vincent controlla e infatti sì, Marie ha letto e sembra tranquilla, là nella pinombra. Poi però arriva il sole. A Vilnius in luglio è fresco, ma la luce è quella dell'estate e quando illumina la camera, Vincent vede che Marie non è così tranquilla come pensava. Dorme, ma il suo non è un sonno normale, sta male. E soprattutto, quando Vincent sposta le coperte, vede che Marie ha brutti segni sul volto, tagli, graffi, è tumefatta e è nasogonfio. Vincent chiama un'ambulanza, che la porta all'ospedale di Vilnius, dove Marie viene ricoverata d'urgenza. Marie è Marie Trentignan, figlia dell'attore Jean-Louis Trentignan, una star del cinema francese e non solo, soprattutto negli anni 60 e 70. Ed è figlia anche della regista Nadine Marquand. Anche Marie lavora in quel campo, è un'attrice, ha 40 anni e ha fatto un sacco di film per il cinema e per la televisione. Ha lavorato con registi come Claude Chabrol ed Ettore Scola. In Francia è molto conosciuta. No, anzi, non è soltanto conosciuta Marie, è amata. Timida, riservata, malinconica, bella senza essere bellissima. A guardarla si capisce subito che è una persona fragile e incredibilmente sensibile, quasi indifesa. Ma non è debole. Marie non è passiva. Prende posizione e compassione sulle cose che non le piacciono. È impegnata politicamente e socialmente, contro la guerra in Iraq, contro Bush, per la pace, per le donne, per i diritti civili e anche per questo, che la amano in tanti. All'ospedale di Vilnius, Marie arriva alle 7.30 del mattino. È in coma e le sue condizioni appaiono subito gravissime. La Vilnius riceve le prime cure, ma i medici non riescono a farla uscire dal coma. Allora viene trasportata in Francia, dove subisce altre due operazioni. Ad operarla è un mago della chirurgia, il dottor Delaju, che quando esce dalla sala operatoria per l'ultima volta rilascia alla stampa una dichiarazione rassegnata. Per Marie dice non c'è più alcuna speranza. Purtroppo è in uno stato dove non esiste alcuna sofferenza. Le ore di Marie Trentignan sono contate. È vero. Marie muore poco dopo ai primi di agosto per un edema cerebrale. E in quel momento Bertrand, rinchiuso nel carcere di Vilnius, da quella mattina di quel 27 luglio, oltre che un poeta o musicista, diventa anche un assassino. Anche Bertrand è molto amato. Ed è proprio questa una delle caratteristiche di questa storia. I personaggi, la vittima e l'assassino sono personaggi particolari. Non perché siano ricchi e famosi. Non perché siano dei VIP, insomma. Ma perché sono amati, nel senso più intenso della parola. Bertrand è Bertrand Cantat, il leader, il frontman, l'anima dei Noir Désir. Che a loro volta non sono soltanto i Noir Désir. Non sono soltanto una band che da Bordeaux ha scalato le classifiche francesi con un milione di copie vendute, con ogni disco da quando O Sombra e Rode Lameur ha cominciato ad essere trasmesso da tutte le radio francesi. Dandogli un successo che a loro non piace. Che soprattutto a Bertrand non piace. Perché loro sono poeti della musica e non un gruppo commerciale. Loro, i Noir Dés, come li chiamano, sono quelli le cui canzoni si trovano nei Walkman e sui diari di migliaia di adolescenti. E non solo. La cui musica ha fatto da colonna sonora all'inquietudine, alle malinconie, alla rabbia di tanti, in tutta Europa. E lui, Bertrand, 40 anni come Marie, come lei bello senza essere bellissimo, è l'anima di tutto questo. Un cantante a metà tra Leo Ferré, Jacques Brel e Michael Stipe dei Rem. Un poeta tra Lottremonte e Majakowski. Bertrand è un poeta dell'inquietudine, capace di lunghissime ballate letterarie come di veloci e arrabbiatissimi pezzi quasi punk. Le Vingt nous porterà, il vento ci porterà, si chiama il singolo che li fa conoscere definitivamente in Italia. E alla chitarra, ad accompagnare Bertrand in una ballata semplice e intensa, c'è Manu Ciao. Perché anche Bertrand è molto impegnato. Ed è amato anche per questo. Contro il fronte nazionale di Le Pen, a favore dei san papielli immigrati clandestini privi di documenti. Contro il razzismo e a favore del movimento No Globa, o come lo si voglia chiamare. È amatissimo Bertrand, è adorato, è un poeta. E adesso rischia fino a 15 anni per omicidio, per aver ammazzato Marie, la sua compagna. Ma non ammazzato e basta. Per averla brutalmente ammazzata. Ma com'è successo? Marie e Bertrand sono assieme da poco più di un anno. Sono a Vilnius, perché lei sta girando. Fa la parte della scrittrice Colette in un film con la regia della madre Nadine. Il 26 luglio 2003, sono quasi le due di notte, Marie e Bertrand rientrano in albergo. Sono stati in giro con gli altri a festeggiare l'ultimo giorno di riprese e hanno bevuto parecchio, tutti e due. Domina Plaza, terzo piano, stanza 35. A Marie arriva un messaggio sul cellulare. E Bertrand lo vede. Non è un messaggio particolare, ma ha indirizzato alla mia piccola Janice, il personaggio che Marie ha finito di interpretare in un altro film, prima di andare al Vilnius, ed è un messaggio di Samuel. Samuel è Samuel Benchery, il regista di quel film, Janice e John, appunto. Ma soprattutto è l'ex marito di Marie. Lei se n'è appena separata e adesso sta con Bertrand, ma i rapporti con Samuel sono rimasti buoni e Bertrand ne è geloso. Quello che succede dopo lo racconta Bertrand. Lui e Marie litigano, litigano molto, tanto che un cliente dell'albergo va a bussare alla porta della camera perché fanno troppo chiasso. Bertrand apre la porta, si scusa, ma poi torna dentro e ricominciano. Marie diventa isterica, dice Bertrand. E allora lui la schiaffeggia, quattro schiaffi avanti e indietro, che le lasciano dei segni sul volto perché lui ha le dita piena di anelli. Marie cade, batte la testa, ma sul momento non sembra essersi fatta niente. Va a letto. Bertrand è ancora sconvolto dal litigio. Chiama il fratello di Marie, che sta in un albergo vicino, e anche lui non si accorge di niente, fino al mattino. Allora ambulanza e ospedale. Marie è morta, ma lui Bertrand non voleva ucciderla. È stato un incidente, una tragedia, che non lo lascia certo indifferente, come dimostrano i suoi tentativi di suicidio che obbligano le autorità di Vilnius a tenerlo sotto continua sorveglianza nell'infermeria del carcere. Questo è quello che racconta Bertrand. Anche l'autopsia e la perizia del medico legale raccontano quello che è successo quella notte nella stanza numero 35 del Domina Plaza. Ma raccontano un'altra cosa. Quando l'ha aggredita, dice l'esame tossicologico, Bertrand era in preda ad un cocktail di eroine anfetamine, un brutto speed, a cui si è aggiunto tutto l'alcol che aveva bevuto. E prima di chiamare aiuto, ha aspettato almeno sei ore. E se Marie avrebbe potuto essere salvata, dopo era comunque troppo tardi. Marie resta in coma fino al primo agosto e poi muore per edema cerebrare. Il tribunale di Vilnius crede alle perizie dei medici e alle ricostruzioni della polizia, ma crede anche a Bertrand. Il 28 marzo del 2004 lo condanna a otto anni di carcere per aver causato la morte di Marie, ma riconosce che non voleva ucciderla. Bertrand finisce in galera, a Vilnius, poi viene trasferito in Francia e finisce a Muray, vicino a Tolosa. Resta dentro quattro anni, fino al 2008, quando il giudice di sorveglienza decide la libertà condizionata, visto che cantato in prigione sembra aver ritrovato il suo equilibrio. E visto anche che non è un criminale che potrebbe tornare a delinquere, ma uno che può tornare tranquillamente a fare il suo lavoro, cioè il poeta e il musicista. E infatti è quello che fa, tornando con i Noir Desir e ricominciando a fare musica. Va bene, ma è tutto qui? Perché qui finisce il giallo, ma come diceva il commissario De Vincenzi, il vero mistero comincia qui. Ed è un mistero che non si indaga più nelle aule di tribunale, ma su internet, nei blog, nei forum, e nei siti sui Noir Des, sui giornali, nelle lettere degli appassionati. Perché non basta la decisione di un giudice di sorveglianza che dice che ormai è tornato tutto a posto. Quella notte a Vilnius c'è stata, e resta nella mente di molti. Ci sono quelli che su internet si chiedono potremmo ancora ascoltare la loro musica, la musica di un assassino. E nel 2003, mentre lui è ancora sotto processo a Vilnius, la casa di Bertrand, nelle lande, nel sud della Francia, prende fuoco misteriosamente. Forse per rappresaglie, per odio nei suoi confronti. Anche se c'è chi non lo abbandona. Come chi scrive nei blog, comunque, sarei sempre uno dei nostri. O musicisti come Omar Pedrini, l'ex cantante dei Timoria, che gli dedica una canzone come e dimenticare Palermo. Ma quella violenza, quella brutalità che gli ha fatto ammazzare di botte la sua donna, da cosa è nata? Drama della droga e del delirio, follia, cattiveria, violenza e inquietudine, tradimento dei buoni sentimenti, la metà oscura che si nasconde in ognuno di noi, anche i più sensibili, anche i poeti. La degenerazione di una musica corrotta e di uno stile di vita irresponsabile, l'immaturità, il fatto, il destino, il caso. Non c'è una risposta. Non per niente al commissario dei Vincenzi interessava il mistero del cuore umano, ma alla fine del libro quello che trovava era solo il nome del colpevole. Neanche lui sarebbe riuscito a scoprire che cosa succede dentro quando un poeta diventa un assassino.